E' difficile scoprire il bankroll dei giocatori, ma noi abbiamo provato a farcelo rivelare. Sentiamo. Ah, guarda, molto meno di quello che vorrei io, quindi dobbiamo lavorare per farlo crescere ancora di più. Magari fosse la metà di Cristiano Blanco, ragazzi. Magari, ma pure un terzo mi accontenterei. Non riesco più a contare, penso sarà oltre un milione, non lo so. Il bankroll, quello che avevo un po' di anni fa, adesso solo debiti, quindi il bankroll dei debitori è cospicuo, diciamo così. Dovete fare in banca a chiedere? Non lo so ancora quant'è, bisogna vedere, cambia in continuo. Però è abbastanza sostanzioso, mi difendo. Oggi grazie a un mio socio è 17.000. Alessandro Arminasi. A giocare ho vinto 20k, 20.000. E altri sono tutti personali, però non metto nel gioco. Su quale poker room? Ah, non meglio non fare nomi, ti cosa dici? Sì, però è divertente questa domanda particolarmente a me. Dai, sincero, qual è il tuo bankroll per il poker? Fai circa 10.000. Allora, allora. Grazie a tutti.